Continuano gli incidenti sul lavoro in Sicilia. L'ultimo ieri in un cantiere edile a Floridia, nel Siracusano. La vittima, un 59enne originario di Catania, operaio che si stava occupando dei lavori sul tetto della casa. Per cause ancora da accertare, si è verificato un cedimento e l'operaio è caduto ed è stato travolto dal materiale. Inutili soccorsi da parte del personale del 118. In Sicilia sono stati 10 morti sul lavoro tra gennaio e marzo 2024, stando al rapporto che l'Inail ha diffuso. In sostanza la situazione resta drammaticamente invariata con una tendenza alla conferma di un dato già nel 2023 più pesante rispetto al 2022. Ci sono insomma tutte le ragioni per ribadire l'allarme e rilanciare la protesta su mancate risposte e misure spot del governo in materia di prevenzione. Lo afferma la segretaria generale della UIL Sicilia, Luisella Lionti, commentando i numeri siciliani del rapporto trimestrale dell'Inail. L'esponente sindacale aggiunge senza mai dimenticare che il rapporto contiene le sole denunce e rischia quindi di rappresentare una punta dell'iceberg o poco più. Va sottolineato come siano tutt'altro che confortanti pure le tabelle sugli infortuni passati da 6.287 nel primo trimestre dello scorso anno a 6.335 nello stesso periodo di questo. Cinque province su nove segnano incrementi con picchi a Catania da 1744 a 1759 e Palermo da 1355 a 1428, seguite da Ragusa, Agrigento e Caltanissetta. Sono dati preoccupanti una strage silenziosa che si consuma quotidianamente nei cantieri, nei terreni agricoli, nelle fabbriche con numeri da guerra civile. Noi chiediamo come sindacato l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro nel codice penale.